Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani regionali partendo dal centro che già vedete alle mie spalle nella edizione di Pescara. Il titolo di apertura, eccolo qui, Alessandrini, un dossier per il PM. Dunque si torna sulla indagine che riguarda il sindaco di Pescara per la questione dell'inquinamento di Fosso Valle Lunga. Il sindaco si difende, ho chiuso io quegli scarichi e poi più avanti nel corso della nostra rassegna ascolteremo anche l'intervista che abbiamo realizzato nella giornata di ieri. Andiamo a vedere anche all'interno l'inchiesta Rigopiano. Chiodi, la carta valanghe, toccava a chi è venuto dopo. Andiamo a leggere perché non si sono attivati dopo di noi. Lo dovranno spiegare i giudici, così Gianni Chiodi, dopo l'interrogatorio in procura ieri alla sua giunta in Abruzzo e subentrata a quella dell'attuale governatore D'Alfonso. E poi ancora l'assessore di Ignazio sul turismo, l'Abruzzo, dovrà stupire. Ieri presentati i progetti che riguardano appunto il turismo che vanno sotto il nome di destinazione Abruzzo. Andiamo a vedere adesso nelle cronache. Scandalo Mense. Due i menu finiti sotto accusa. Martedì 29 maggio e giovedì 31 di maggio. Sarebbero i menu serviti a scuola in queste due date, quelli finiti per esclusione sotto la lente di ingrandimento degli investigatori impegnati nelle indagini per i malori di oltre 200 bambini delle scuole pescaresi. Intanto un gruppo di genitori si è costituito in comitato, mentre le lavoratrici di Cirfood e Bioristoro nel servizio da oltre 20 anni si sono riunite in assemblea preoccupate per la tutela dei loro posti di lavoro. Restiamo ancora a Pescara. Si apre una falla sulla barca a vela, coppia ne viene salvata. E poi Montesilvano, donna ingegnere, il nuovo assessore all'urbanistica, nominata dal sindaco Maragno. Le altre notizie per quanto riguarda l'economia, Banca Italia, l'occupazione sale ma resta ancora precaria e poi il governo, tutti gli abruzzesi, commissioni dentro Bagnai, Pezzopane e Bellachioma. A centropagina nella fotonotizia lo spettacolo, la rassegna cinematografica pescarese dal 29 giugno al 6 luglio al Festival Flaiano si parte con Albanese e Cortellesi. Andiamo ancora avanti, andiamo a leggere il taglio basso, a Francavilla cultura in lutto con la città che piange Iacone, domani funerali dello storico scomparso all'età di 91 anni. Per quanto riguarda il Pescara, Pettinari va a Lecce, Fiorillo verso il Carabag Mondiali, Argentina KO messi vicino alla clamorosa eliminazione dopo la sconfitta davvero clamorosa di ieri sera per 3-0 contro la Croazia. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso l'edizione Teramana, chiaramente il titolo di apertura è sulla campagna elettorale. Morra d'Alberto e sfida sul sisma Teramo al voto, domine il tema della ricostruzione, Covelli con il centrodestra, dunque scopre le carte il candidato a sindaco nel primo turno, Covelli. Per quanto riguarda la sfida elettorale di Teramo ma anche quella di Silvi, vi ricordo l'appuntamento di domenica sera con la nostra trasmissione dedicata proprio al ballottaggio, collegamenti in diretta sia con Silvi che con Teramo a partire all'incirca dalle 22.30. Seguiremo tutto lo spoglio e vedremo chi sarà il sindaco di Teramo e quale sarà invece il sindaco di Silvi. Torniamo sulla prima pagina del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere nelle cronache a Cermignano, muore travolto da una rotoballa da 5 quintali, ennesima tragedia sul lavoro nel Teramano, sette giorni dall'operaio morto in un'azienda di colonnella, ieri pomeriggio un agricoltore di 65 anni è deceduto dopo essere stato travolto da una rotoballa di fieno del peso di 5 quintali. È venuto a Cermignano, nell'azienda agricola di proprietà del figlio dell'uomo, immediati i soccorsi degli operatori del 118 è arrivata anche l'eliambulanza ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare. A Silvi, estorsioni e spaccio, 4 arresti da parte della Guardia di Finanza e poi Giulianova, processo Castrum, il Lido delle Palme e una speculazione. Questo per quanto riguarda lo spazio delle cronache, adesso andiamo nel taglio basso, colonnella, guerra delle sagre all'Iper, due associazioni chiedono lo spazio per gli stessi giorni e poi il calcio di Selecid, il DS Federico, da Piccioni a Caidi, ecco il Teramo. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura, universitari, 70 alloggi con lo sconto, Chieti accordo tra l'azienda per il diritto agli studi e la Campus X. Nelle cronache andiamo a Vasto adesso, delitto Delisa, Di Lello capace di intendere l'assenza di un vizio di mente sia totale che parziale. Fabio Di Lello, 34 anni al momento dell'uccisione di Italo Delisa, 21 anni, sarebbe stato in grado di comprendere ciò che faceva. A queste conclusioni è giunta la perizia del dottor Renato Ariatti, iniziata sull'imputato a febbraio scorso e depositata il 13 giugno. Un particolare che potrebbe divenire rilevante ai fini della configurabilità del reato commesso. In primo grado Di Lello è stato condannato a 30 anni. E poi ad Ortona, causa persa, pagano alla ASL 340 mila euro. A Lanciano si picchiano per i tartufi a colpi di Vanga. Andiamo nel taglio basso, guardia grele, ruote tagliate all'allenatore, auto sabotata a Ferrari, tecnico del calcio dilettantistico. Per quanto riguarda il softball, Atomschieti si ritira, decisione inevitabile. L'ultima delle quattro prime pagine del centro è quella dell'edizione aquilana. Il titolo di apertura, tasse, altra proroga. C'è delusione. L'Aquila per i tributi del 2009 dal Senato non arriva alcuna soluzione. E poi ancora, nello spazio delle cronache ad Avezzano, morto l'operaio caduto dal tetto della Hell Foundry. Non ce l'ha fatta l'operaio di origini siciliane, caduto dal lucernaio di un edificio della Hell Foundry, mentre svolgeva le operazioni di manutenzione. Sebastiano Marco Aiello, 55 anni, di Siracusa, impiegato di una ditta di Cesena come tecnico e tubista saldatore, morto all'alba di ieri all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era stato trasferito subito dopo l'incidente e operato nel reparto di neurochirurgia. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta coordinata dalla procura di Avezzano. All'Aquila, la Dompe in festa, export, l'Abruzzo batte la Germania. E poi ancora il carcere di Sulmona, agente ostionato, annunciata la visita del ministro dell'interno Salvini. Nel Taglio Basso, a Tagliacozzo, sono dovuti intervenire i carabinieri, i padroni in ferie, il cane sul balcone, i proprietari al mare, l'animale resta solo e abbaia per due giorni. Torneo Challenge, tennis all'Aquila, il favorito esce di scena. Cambiamo testata, adesso passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto a Bruzzo, il titolo di apertura di economia a Banca Italia. L'Abruzzo in ripresa, resi noti i dati del 2017, crescono acquisti, esportazioni e occupazione a termine. Il benessere torna a livello precrisi, le famiglie consumano e si è attenuata la povertà. Dunque questi sono i segnali positivi che arrivano sul fronte della economia abruzzese, anche se come vedete dall'attacco l'Abruzzo cresce meno che nel nord Italia. Aumentano, come detto, i consumi e si sta lentamente ritornando ai livelli precrisi. Andiamo a vedere all'Aquila. Dompe, sito più grande, nuovo farmaco. 25 anni fa Dompe inaugurò all'Aquila lo stabilimento produttivo della sua azienda. Ancora andiamo avanti, la El Foundry con l'operaio caduto dentro l'azienda che è deceduto, Avezzano Maestranze sul piede di guerra. Nel Terramano intanto un agricoltore ucciso da una rotoballa, come abbiamo visto in precedenza. Nella fotonotizia il caso a Trento, affitto solo a gente di Trivenito e Lombardia. Niente casa alla Pescarese, c'è sdegno. Reazioni di sdegno e condanna alla storia della studentessa pescarese scritta alla facoltà di giurisprudenza a Trento, alla quale il padrone ha rifiutato di affittare casa. Dunque c'è anche un caso di razzismo tutto interno all'Italia. Andiamo di spalla. Il turismo regionale cerca lo sprint di squadra. Questo per quanto riguarda le strategie per il turismo illustrate ieri nella convention all'Aurum. I prodotti del territorio vanno offerti in sinergia tra loro, si è detto, tra le tante cose. Andiamo nel taglio basso a Lanciano. Estate frentana, salvi i concerti, quattro grandi concerti all'aperto dell'estate musicale frentana. La Giunta ha approvato una delibera per attingere 37 mila euro dal fondo di riserva. Nel taglio alto le altre notizie. A Teramo, Covelli appoggia Morra, Giorgia Meloni ieri in visita alla città. E poi il basket di A2, Roseto, rinforzo di lusso, arriva Pieric da Roma. E per la Serie B, Pescara, il bomber pettinare a Lecce, trattativa Lampo. L'attaccante ritroverà il mister Liverani nelle casse del delfino un milione. Ma adesso serve subito trovare un sostituto. Oddo nel mirino di Ascoli e Foggia. Queste le notizie di mercato sul messaggero. Passiamo adesso alla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere il titolo di apertura che sulla cronaca nera. Agricoltore ucciso da una rotoballa. Ennesimo incidente nei campi a Penna Sant'Andrea. 65 anni e schiacciato da 5 tonnellate di fieno. Nel taglio alto, Giorgia Meloni invita gli sfollati in commissione. Per quanto riguarda sempre la campagna elettorale, Meloni, ve lo ricordiamo, è stata a Teramo. Per sostenere Morra, che è il candidato di Fratelli d'Italia. E poi, D'Alberto, marca stretto, regione e commissario. La ricostruzione non può essere una passerella. Questo è il botta e risposta tra i due contendenti alla fascia tricolore. Andiamo a centropagina nella fotonotizia. Teramo nella sua relazione le priorità per il prossimo sindaco, l'eredità del commissario. E poi, di spalla, Roseto degli Abruzzi, Folla accoglie la salma dell'assessore Frattari in municipio. E poi l'esposto Codacons, possibili conflitti di interesse sulle bandiere blu. Ancora il segretario di Brucchi, Ciarroni, infiamma la campagna del ballottaggio. E poi l'anniversario, preghiere e lacrime per Esther Pasqualoni. Sotto la fotografia, arrestata la banda dei pusher violenti, spacciavano Coca, Ecstasy e Chetamina tra Silvi e Pescara. Scendiamo nel taglio basso, revocato lo sgombero, salva la festa della Madonna delle Grazie. E poi nel teramo calcio è ora di concentrarsi sul mercato, sul piatto Amadio e Barbuti. Queste le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura, caos europeo sui migranti. Frontiere in mare, nave con 224 a bordo e leader leghista vada in Olanda. Toninelli sarà sequestrata. Macron, parole pesanti, lebbra populista, Di Maio, ipocrita, Merkel, media via la bozza dell'Unione Europea. Questo è un po' il caos che si sta registrando in queste ore sui migranti. In tutta Europa poi c'è la riflessione di Angelo Panebianco sui sovranisti, interessi e false alleanze. È il titolo dell'articolo. Andiamo adesso per restare sempre in tema. Nella fotografia, Stati Uniti, la scelta della first lady va al confine con il Messico. Melania, i bimbi, le gabbie. Sono qui per aiutarvi il caso che sta facendo il giro del mondo con i bambini chiusi nelle gabbie, separati dai genitori. Andiamo adesso sulla Repubblica. Il titolo di apertura è differente. Saviano lo critica. Salvini minaccia di levargli la scorta. La replica. Il ministro di malavita non mi fai paura. Queste le parole di Saviano Fico. Chi si oppone alla criminalità va protetto. Protestano le opposizioni. Ondata di solidarietà per lo scrittore di Gomorra. Poi l'editoriale di Mario Calabresi. La grammatica del Viminale. Questo scrive il direttore. Poi il commento di Francesco Merlo. La litania dell'odio. Vedete anche questa grande fotografia di Angela Merkel. Merkel rischia la crisi interna. Migranti ora a Visegrad e Italia possono far saltare l'Europa. Andiamo adesso sulla stampa. Il quotidiano torinese apre così. Migranti dividono la Unione Europea. Volano gli insulti tra Macron e Di Maio. Merkel chiama Conte. Ritiriamo la bozza ma il vertice è a rischio. L'attacco del presidente francese. Lebra populista. La replica è un'ipocrita. Andiamo avanti. Nella fotografia invece la stampa ci propone la tragedia sportiva dell'Argentina. Ieri sera mondiale messi in lacrime a un passo dalla eliminazione. Argentina shock dopo il pareggio con l'Islanda. La sconfitta devastante con la Croazia per 0 a 3. Andiamo avanti ancora sul fatto quotidiano. Il titolo di apertura. Tolta la scorta in groia dopo la condanna per la trattativa. Viminale ha deciso Miniti a maggio e ora Salvini minaccia di levarla a Saviano. E poi Europa. Macron. Populisti lebrosi. Migranti. Conte strappa la retromarcia ad Angela Merkel. E qui vedete nella foto il summit di domenica. Nel taglio alto andiamo a vedere le altre notizie. Lo stadio si può fare. Si indaga sui soldi a EU. Caso Parnasi. PM regolari le procedure. Chiarezza sul PD. E poi la cannabis leggera fa male. Ma è vero, il consiglio di sanità potrebbe essere vietata per legge. Anche se in Italia si sono diffusi tantissimi shop che vendono appunto cannabis light. Andiamo sul manifesto. Il titolo con un numero su questa fotografia del mare 34.361. Provate a leggere ad alta voce qualche nome della lista dei 34.361. Il popolo dei morti annegati nel Mediterraneo negli ultimi 15 anni. Il nome è il paese e la fine del viaggio. Il manifesto si unisce all'iniziativa del Guardian e del Taghe Spiegel pubblicando 56 pagine speciali. L'elenco più completo oggi esistente delle vittime accertate dalla Fortezza Europa, realizzato dalla ONG olandese United for Intercultural Action. Un promemoria per i capi di governo che a Bruxelles si apprestano a decidere sulla vita e la morte dei migranti. Nel taglio alto Salvini blocca la nave della ONG Lifeline migranti in Libia o a Malta. Macron siete come la lebra. Andiamo sul sole 24 ore. Cambiamo registro sul quotidiano economico e finanziario italiano. Tria difende l'euro e le banche italiane. All'Eurogruppo la prima uscita del ministro a Bruxelles ribadisce le linee di continuità con il passato. La posizione del governo è che la moneta unica non è in discussione. Titoli bancari giù in borsa per le anticipazioni sull'accordo franco-tedesco. Poi il petrolio attesa oggi la firma dell'accordo sulle quote OPEC verso un milione di barili. In più si discute l'aumento della produzione di greggio. E poi migranti via la bozza Unione Europea ma intesa lontana. Verso il vertice telefonata Conte Merkel nella proposta italiana fondi per rimpatri assistiti. Andiamo avanti sul messaggero. Anche qui si riporta in primo piano la lite fra Francia e Italia che continua. Macron attacca l'ite con l'Italia. Migranti, il presidente francese, populisti come la lebra, insorgono Di Maio e Salvini. È un'ipocrita. Merkel rassicura Conte, la bozza cambierà. Stop a una nave dell'ONG, il governo la sequestreremo. E poi c'è l'editoriale di Gianfranco Viesti. Così la lezione della Grecia ha rafforzato gli eurocritici, tre anni di austerity, un ultimo prestito per continuare ad avere liquidità per quanto riguarda la Grecia e anche condizioni per la restituzione in rate del prestito fino ad ora ricevuto. Andiamo a vedere le altre notizie. Il caso euroscettici in Parlamento, presidenti di commissione, due nomine fanno ripartire lo spread. Tria però rassicura nell'Eurogruppo, abbiamo visto già in precedenza. E poi lo stadio va avanti, ma la raggi frena per le crepe nel Movimento 5 Stelle. L'altolà degli uffici tecnici slitta la variante. 5 Stelle, nessuna forzatura. Prima la legalità. La sindaca IPM, Lanzalone, indicò il DG in Campidoglio. E poi la favola della premier che diventa mamma a Jacinta Arden, Nuova Zelanda. Prima di lei solo la butto. Continuiamo con il tempo. Lanzalone sindaco è il titolo del quotidiano romano. Gli interrogatori della raggi, da IPM Virginia ammette. In Campidoglio faceva tutto lui. Stadio, nomine controllate. Forse si è occupato anche di altre questioni. Non saprei. Vengono riportate queste parole attribuite al sindaco di Roma, Virginia Raggi. E poi Salvini sfida le ONG, sequestro il barcone. Linea dura il ministro contro l'olandese Lifeline. Se arrivano fermiamo la nave e processiamo l'equipaggio. Andiamo su avvenire. E la nave non va. Il titolo con cui viene aperto il giornale. Il caso è sempre quello della Lifeline con Naufraghi a bordo che sarà sequestrata. Merkel rassicura Conte ma è scontro con Macron. La barca non autorizzata ha soccorso 200 persone. Batte bandiera olandese ma non è registrata. Linee diverse. Toninelli, Salvini. E poi le parole di Papa Francesco. Il Papa accogliere i migranti con prudenza. La visita al Consiglio delle Chiesi. I cristiani lavorino insieme. Questa è la posizione di Papa Francesco e del Vaticano. Andiamo su Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Caro Salvini da Ciretta. Blocco navale e confini chiusi. Quindi si sposa in qualche maniera la linea dura del Ministero dell'Interno. contro gli sbarchi servono i respingimenti in mare come fece Prodi con gli albanesi nel 97 e ripristino delle dogane per evitare che i paesi confinanti ci rimandino indietro i clandestini. Macron non la smette più di insultare. I populisti sono come la lebra. E poi la Lombardia funziona a meraviglia. Fontana governatore di razza scrive Vittorio Feltri. Andiamo sulla verità. Anche qui il titolo di apertura. Migranti. La ritirata della Merkel. Stracciata la bozza della Unione Europea. La cancelliera parla di un equivoco. Al vertice di domenica si discuterà della proposta italiana. Macron insulta. Populisti come la lebra. Di Maio e Salvini rispondono. Lebra è chi fa i blocchi. A 20 miglia. E poi Saviano dà di matto per la scorta che nessuno vuole portargli via. Questa la lettura della verità. E ancora pensioni si può fare ricorso contro la legge Fornero. L'Europa apre il processo sulle rivalutazioni delle pensioni. Il ministro dell'interno ora smontiamo tutto. Andiamo sul secolo d'Italia. Il titolo con la foto del Campidoglio. Oltre il ridicolo. Chiaramente si parla della vicenda stadio a Roma. E poi nel taglio basso il primo piano. Movimento 5 Stelle. Cresce il malcontento. Pesa l'attivismo della Lega. E poi Noa la Cannabis Light. Business di J-Ax nei guai. Ancora Scamarcio nazionalista. Attore e con il governo. Scamarcio che in passato ha fatto endorsement verso l'ex governatore della Puglia. Niki Vendola. Andiamo sul mattino di Napoli. Il titolo di apertura. Migranti. L'accoglienza truffa. Latte tagliato con acqua sporca. Benevento. Cinque arresti costretti a vivere in condizioni disumane. Macron attacca i populisti. Sono come la lebra. Di Maio è un ipocrita. E poi il caso Lifeline. In mezzo al mare con 224 profughi. Il caso dell'ONG senza bandiera. Toninelli annuncia il sequestro della nave. L'intervista del mattino. Sanità campana. Dossier sul ritorno del commissario. Il ministro Grillo. Troppi piccoli ospedali. Medicina. Discutiamo del numero chiuso. Andiamo ancora avanti sul secolo XIX. Il titolo di apertura del quotidiano genovese. Ventimiglia. Il muro francese. Odissea sulla nave di una ONG. Toninelli corregge Salvini. Merkel acconte. Ritiriamo la bozza di accordo sui migranti dell'Unione Europea. Caso immigrati. Torna il controllo. Documenti per tutti. Scontro Macron di Maio. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi e nazionali. Partendo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura c'è l'Inter. L'urlo del ninja. Le prime parole di Nainggolan. Nero-azzurro alla Gazzetta. Grazie Inter. Mi hai voluto più di tutti. Grande Spalletti. Felice di ritrovarlo dopo averlo avuto come allenatore alla Roma. Ma nel taglio alto c'è il caso del Mondiale. Che è quello di Lionel Messi. Messi male. Il gioco di parole della Gazzetta. L'è umiliato dalla Croazia. L'Argentina è quasi fuori. Clamorosa papera di Caballero. Poi notte da incubo. Per sperare ancora l'Albi Celeste. Oggi deve tifare Nigeria. Mandzukic con Modric agli ottavi. Avanti anche la Francia che passa col gol di Mbappé. Questo per quanto riguarda il Mondiale. Scendiamo invece nel taglio basso. Juve Giapazza di Emre Can. Che bello. Finalmente qui il centrocampista tedesco firma fino al 2022. Qui sanno come si fa a vincere. Queste le parole di Emre Can. Poi andiamo sul Corriere dello Sport. Anche qui la foto di Messi in lacrime. Piangi pulce. Sciocca al Mondiale. La Croazia fa pezzi l'Argentina. Messi a questo punto è quasi fuori. Leo impresentabile come tutta la squadra. Rebic, Modric e Rakitic firmano il 3-0 che vale gli ottavi. Battere la Nigeria potrebbe non bastare. Scrive Ivan Zazzaroni. Il marziano dimezzato. E' chiaro che anche il confronto con CR7 in questo Mondiale è stato impietoso. Poi accessione avveluta. Nainggolan riesce ancora a distinguersi. Amaro Raja. Passato all'Inter. Ninja affida il suo testamento emotivo a Instagram. Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte. E poi questo gioco di parole, You Can, entra in scena la Juve che ritocca i suoi piani per dimostrare che può tutto. Agnelli presenta il tedesco Embrecan, prende Cancelo, punta Rabiot, prenota Golovin e De Leite. E resiste per ora agli assalti per Pjanic. Andiamo su Tutto Sport. Qui il titolo principale è Cancelo 5, Juve quinto colpo dopo Can, Perin, Caldara e Spinazzola. Poi nel taglio alto Argentina umiliata dalla Croazia che travolge la Selezione. E poi per quanto riguarda il Milan, i rossoneri Dateci, Brozovic, contatti con Suso, scontro Milan-Inter. Per quanto riguarda invece il Torino, Toro, Perez dice sì e ora verissimo l'esterno in arrivo. Cairo rilancia. Ci fermiamo per il break pubblicitario adesso. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal messaggero nella pagina Abruzzo, gli scenari dell'economia a Banca Italia. L'Abruzzo traina la ripresa dell'Italia meridionale. I dati del 2017 crescono consumi, esportazione e occupazione. Il PIL è aumentato dell'1%. Il trend è ancora favorevole. Raggiunta quota 6.000 posti in più. L'impiego a termine è ritornato quasi ai livelli pre-crisi. Le famiglie hanno potuto ricominciare ad acquistare. Si è attenuato il problema della povertà. Questo dice il report. Andiamo invece a parlare di Rigopiano. Nel taglio basso l'ex presidente Chiodi ieri in procura lavorai alla carta valanghe. L'ex assessore Giulianti sono andato a dire ai magistrati quello che ho fatto e non diversamente dagli altri quello che non ho fatto. Sempre su Rigopiano andiamo a vedere la pagina Abruzzo della città. Sulla carta valanghe ho fatto il mio dovere. Vengono riportate le parole dell'ex governatore Gianni Chiodi interrogato ieri a Pescara per l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel in cui persero la vita 29 persone. La precisazione, l'ultima delibera che abbiamo fatto, è proprio quella che la legge prevede. Come ha detto Chiodi, prima di andare a vedere il servizio, completiamo la lettura di questa pagina. Di spalla ad Alfonso inadeguata la proroga sulle tasse post-sisma disposta dalla maggioranza. E' nel taglio basso il protocollo tra core come Rai per dare spazio alle associazioni in TV. Ma come detto, torniamo a Rigopiano, torniamo agli interrogatori di ieri e andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Terza giornata di interrogatori oggi in Tribunale a Pescara per rinchiesta riguardante la tragedia di Rigopiano. Dinanzi al procuratore capo Massimiliano Serpi e al sostituto procuratore Andrea Papalia sono stati l'ex presidente della regione Gianni Chiodi e l'ex assessore della sua giunta Daniela Stati. Chiodi, accompagnato dai suoi avvocati di Dalmazio e Mazzarelli, ha risposto alle domande degli inquirenti così come ha poi spiegato all'uscita da Palazzo di Giustizia. Per rispondere a tutte le domande e fornire tutti i chiarimenti richiesti dalla procura. Un'ora e il presidente ha risposto a tutte le sollecitazioni che sono state richieste da parte della procura. Il momento non è sicuramente opportuno per affrontare aspetti tecnici legati a una fase di indagini preliminari che obiettivamente vedono peraltro la prosecuzione degli interrogatori, addirittura anche nella giornata di oggi. Sinteticamente ha risposto a tutti gli addebiti, anche quelli relativi all'impulso fornito per la stesura della carta di protezione delle valanghe. Lei ritiene di avere fatto tutto quello che poteva barra doveva circa la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe? Assolutamente sì, non ne voglio affrontarlo qui, se è un'indagine mi rendo conto che attiene a fatti molto dolorosi e quindi speriamo che venga accertata tutta la verità, se ci sono delle responsabilità, se non ci sono. Però ciascuno di noi ha cercato di fare almeno, non è che si poteva prevedere una cosa del genere, ma comunque abbiamo ciascuno, almeno per quanto mi riguarda, attuato tutte le cose che servivano a poter prevenire i rischi a cui la regione Abruzzo andava incontro. Tra cui anche la carta per le valanghe, noi abbiamo fatto una riorganizzazione della protezione civile e siamo arrivati nel 2013 tra l'altro a creare un sistema di rischi che non c'era mai stato in regione Abruzzo e quindi un sistema di allertamento, ma anche un'analisi, una casistica dei rischi che abbiamo fatto appunto dopo aver fatto la riorganizzazione della protezione civile, subito dopo il terremoto, l'abbiamo voluta perché avevamo visto che c'erano spazi di miglioramento per quanto riguarda il servizio della protezione civile. L'ultima delibera che hai fatto, prima della fine della legge statua? L'ultima delibera era proprio l'approvazione e quella che la legge prevede. La legge prevede che la carta delle valanghe venga fatta dall'indirizzo politico, la data, lo deve fare la struttura e il servizio insieme al Correneva, insieme al Forestale e poi la Giunta deve approvare la carta storica e più c'era anche la sollecitazione, il mandato rinnovato che è contenuto già nella legge, di procedere alla CLPV. Successivamente è toccato all'ex assessore Daniela Stati che è rimasta in procura poco più di mezz'ora. All'uscita il suo avvocato Alfredo Iacone ha rilasciato una breve dichiarazione. Possiamo dire soltanto che la dottoressa Stati ha chiarito la sua posizione evidenziando la totale estranità a qualunque responsabilità penale per le condutte ipotizzate. Guardi, l'unica cosa che le posso dire è che come purtroppo è noto in quel periodo c'era il problema del terremoto, quindi voi fate 2 più 2. Anche se facciamo 2 più 2 però diciamo che è un problema e si somma all'altro. Probabilmente c'era un solo problema che era quello di una città distrutta da ricostruire. Andiamo sulla pagina Abruzzo del Quotidiano Il Centro e cambiamo decisamente registro. Parliamo di turismo. L'Abruzzo punta a stupire con il progetto della Regione Pescara. L'assessore D'Ignazio presenta a decine di operatori del settore il piano che punta molto sulla sinergia. Il direttore di Filippo pensiamo di raggiungere l'obiettivo entro un anno. I nuovi collegamenti aerei proposti dalla Saga saranno determinanti. E poi parla l'esperto, la natura non basta, serve di più. Max Paleari conferma un ecosistema digitale per farsi trovare dai visitatori. Allora andiamo a vedere la convention di ieri all'Aurum nel servizio. Raccontare il territorio nel suo complesso con una visione d'insieme che restituisca la straordinarietà del patrimonio naturalistico e storico architettonico dell'Abruzzo. E' la mission importante del progetto destinazione a Bruzzo messo in campo dall'assessorato al turismo del neo-assessore Giorgio D'Ignazio che tenta così di aumentare l'incoming di turisti nazionali ed internazionali. Oggi all'Aurum di Pescara c'è stata una tavola rotonda per lanciare il progetto in cui si sono affrontati tutti i temi che ruotano attorno alla promozione turistica del territorio. Dobbiamo veicolare quello che noi riusciamo, lo dobbiamo fare in maniera forte, questo è l'intervento. Dobbiamo controllare che la comunicazione sia in positivo e non in negativo e poi dobbiamo muovere e correre su tutti i mercati per far conoscere il nostro prodotto e per quindi attrarre qui da noi turisti. Questa è la sfida da fare, la dobbiamo fare tutti insieme, fare il sistema. Parlare di sistema Abruzzo, per questo la destinazione Abruzzo non diviso per provincia, non diviso per fasce, mare, monti, ma all'insieme l'Abruzzo è una terra bellissima da scoprire. Raccontare un altro Abruzzo superando l'immagine negativa restituita a livello mondiale dalle tragedie che la regione ha subito dal 2009 ad oggi. Questo è il primo obiettivo da raggiungere. Per farlo ci si appoggia anche sulle iniziative del Ministero dei Beni Culturali che puntano a modificare il movimento dei turisti in Italia spostando visitatori dai grandi centi e tra le grandi città d'arte verso i piccoli borghi e le regioni come l'Abruzzo per moltissimi, ancora tutte da scoprire. È il progetto generale del piano del turismo italiano, provare a spostare i flussi da pochissime grandi destinazioni a un patrimonio infinitamente ricco come l'Italia e con tutte le sue caratteristiche storiche ma anche ambientali, culinarie, eccellenze, produzioni, artigianato artistico, tutte cose su cui appunto la vostra regione ha grandissime possibilità. Restiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Pescara. In primo piano l'inchiesta su Fosso Vallelunga, sindaco indagato, chiarirò tutto al PM, mancati controlli sugli scarichi abusivi di Fosso Vallelunga, Alessandrini chiede di essere ascoltato e prepara un dossier no alla psicosi. La qualità delle acque del mare in questa zona non è in discussione, i risultati delle ultime analisi sono conformi e possiamo andare ad ascoltare il sindaco di Pescara. Questa volta sono gli sversamenti a Fosso Vallelunga a far iscrivere il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, nel registro degli indagati della Procura Adriatica. Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Paolo Pompa, il reato ipotizzato per il primo cittadino è quello di inquinamento delle acque. Dunque, a finire sotto la lente di ingrandimento, c'è il Fosso di raccolta delle acque piovane a sud del capoluogo, quasi al confine con Francavilla, che nella passata stagione balneare non solo, ha reso inaccessibile alla balneazione il tratto di mare antistante. Più volte gli sversamenti in quel fosso sono stati al centro di polemiche ed esposti alla magistratura, soprattutto da parte dell'associazione Pescara Mi Piace, che in diverse circostanze aveva fatto sopralluoghi assieme alla stampa per documentare la situazione. Il sindaco Alessandrini si dice tranquillo e certo di poter dimostrare, carte e analisi recenti dell'arte alla mano, la bontà degli interventi fatti su Fosso Vallelunga. Si potrebbe pensare anche al contrappasso di dantesca memoria, visto che tanto io amo il mare quanto esso è fonte di preoccupazioni. Preoccupazioni che poi in realtà non ci sono, perché se è evidente il mio disappunto per una cosa del genere, è altrettanto chiara la mia volontà di chiarire il prima possibile questa storia, che per quanto mi riguarda non esiste, ma tutto questo andrà accertato nelle competenti sedi. Ho naturalmente chiesto al mio avvocato sostanzialmente di favorire il più possibile un chiarimento per definire quello che è successo rispetto ad un rivo, che è il Fosso Vallelunga, che è oggetto di plurimi interventi da parte del Comune, da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato che è l'ACA, di concerto con il sistema pubblico. I riflessi di questo sono visibili coran popolo, cioè chiaramente nel senso che se l'anno scorso per esempio quel tratto di spiaggia era soggetto ad acque scarse, quindi temporaneo divieto di balneazione, questo divieto l'anno in corso è stato tolto. Quindi mi pare di capire che i magistrati spiegheranno gli interventi che ha fatto il Comune su quel Fosso Vallelunga. Noi abbiamo un dettagliato resoconto di tutto quello che abbiamo fatto dal nostro insediamento del 2014 ad oggi, anno per anno. Poi naturalmente c'è un prima e ci sarà un dopo, ma quello che è successo in questi anni è puntualmente descritto, certificato e vogliamo chiarire il tutto il prima possibile. In apertura delle pagine di Pescara sul messaggero lo sdegno per la casa negata. La pescarese ha fitto solo a gente di Triveneto e Lombardia. Il caso di Trento riapre antiche ferite, come nel Belgio degli anni 50, dice Federica Vicino, Turo e Antonio Razzi dovrebbero confiscargli l'appartamento, una cosa del genere, è capito anche a me, da emigrato in Svizzera. Il sindaco Alessandrini difende la studentessa concittadina e dice hanno fatto una pessima figura. Nel taglio basso gli esami di Stato, l'atto secondo, Aristotele più facile delle mattonelle, lo scientifico maturandi preoccupati. Andiamo avanti, il caso Mense, test decisivi sul formaggio. L'Istituto Zoo Profilattico cerca di attribuire con certezza l'intossicazione dei bambini al batterio presente nelle caciotte. Una partita di alimenti è stata sequestrata dal NAS nell'azienda che rifornisce le scuole di Pescara. Ora si cerca la prova regina e poi vedete ancora inquinamento Alessandrini indagato. Pronto a spiegare tutto, l'abbiamo ascoltato nella intervista. Andiamo avanti, tornano i parcheggi sulla strada parco, a vuoto la trattativa con i proprietari dei terreni individuati come alternativa, salta il piano navette dell'assessore Diodati. Da fine mese il via libera alla sosta balneare nei weekend, subito disponibili Exfea, Exenaip, Via Bardella e Pescara Sud. E poi, aria di risulta, si organizza l'opposizione civica con un corso che si terrà questa sera nel Palazzo di Città, organizzato dal Movimento 5 Stelle per spiegare come si fanno le osservazioni. Proseguiamo con il centro, torniamo sul caso Mense, indagini sulle Mense, i due menu sotto accusa, scandalo dei malori a scuola, lavoratrici in assemblea per la tutela del posto e un gruppo di genitori si costituisce in comitato e dice vogliamo vigilare sul servizio. Andiamo nella pagina successiva, botte per i debiti di droga, arrestati quattro estorsori, gli spacciatori hanno aggredito un giovane perché non aveva pagato 1200 euro. Il video del pestaggio è finito nelle mani della finanza che comunque continua ad indagare. Il caso degli alberi, sempre a Pescara, otto alberi nuovi al posto della quercia. L'assessore Blasioli rassicura cittadini e associazioni che contestano l'abbattimento in strada delle fornaci. Ancora avanti, la maturità, anche qui l'amicizia di Aristotele beffa gli studenti del classico, delusione anche per i candidati dell'alberghiero che non si aspettavano l'HCCP, l'annuncio della preside del D'Annunzio il prossimo anno, settimana corta, senza rientro. Andiamo nella pagina di Montesilvano. La giunta comunale analisa Fumo come nuovo assessore all'urbanistica. No di Barbara Di Giovanni, Maragno nomina un ingegnere. Hashtag Montesilvano 2019 commenta. Il sindaco sceglie il centro-sinistra. Andiamo avanti, rifiuti, captazioni e pesca abusiva. Vigilare sul fiume, l'associazione Nuovo Saline, testimone quotidiano di reati. Totale assenza di controllo, occorre pattugliare il territorio. Andiamo a Francavilla che piange lo storico Iacone. Si è spento a 91 anni uno straordinario conoscitore della città. I suoi scritti conservati nella biblioteca russo. Domani si svolgeranno i funerali. Nella pagina successiva, quella della Val Pescara, nuovi investimenti per il polo scolastico Paolini di Popoli. Oltre all'adeguamento sismico per 2 milioni di euro, lo storico complesso rinnova anche tutti gli impianti. E ancora, stop i lavori alla Giardini. Il PD ora fondi a rischio per quanto riguarda la città di Penne. Andiamo avanti sempre sul Quotidiano Il Centro. Nelle pagine di Chieti, l'apertura Campus X, Villaggio Mediterraneo, agli universitari, 70 alloggi con lo sconto. Nuovo accordo tra azienda per il diritto allo studio e struttura privata. Ma l'anno scorso le case a disposizione erano 200. E poi Marvasi, l'Unidav è ora in piena legalità. Parla il presidente del CDA dell'Ateneo Telematico dopo l'annuncio del Rettore di rompere con la SEVS. E poi ancora, nel taglio basso, migranti a lezione da studenti e volontari a Lanciano. Nella pagina successiva, morta in ospedale una madre, perdono la causa alla ASL 340 mila euro. Ortona, otto fratelli citano in giudizio l'azienda sanitaria per quel decesso, ora devono risarcirla. Ancora a Paglietta, abusi sessuali su una paziente, assolto l'ortopedico cericola. È il caso di Lello, è capace di intendere di volere, a vasto perizia sul fornaio, condannato a 30 anni per l'omicidio di Italo Delisa, che uccise la moglie in un incidente. Andiamo adesso sul messaggero, andiamo a vedere le pagine di Chieti. Palazzo d'Achille, i lavori in ritardo, diffidata alla ditta. L'impresa ha soltanto 20 giorni per riconsegnare l'opera ultimata. Da lunedì gli operai si sono fermati, l'assessore dice, non sappiamo perché, per quanto riguarda la storica sede del Comune. L'iscrizione all'asili nido, c'è un mese di tempo per fare domanda, e nella pagina successiva, consorzio di bonifica e guerra legale. Il commissario Amicone denuncia la Corte dei Conti, Sciartilli e Marchetti. Tante illegalità da parte dei miei predecessori sono stati causati gravissimi danni, non solo patrimoniali, ma anche morali. Abbiamo avviato una azione risarcitoria. Torniamo sul Quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine di Teramo. Verso il ballottaggio, Meloni agli sfollati del terremoto, non sarete più invisibili. La Presidente di Fratelli d'Italia in visita collaterrato fra le palazzine Ater inagibile e inabbandono. Il Sindaco può fare la differenza per sbloccare la ricostruzione. Morra ha capacità ed è veloce, queste le parole di Giorgia Meloni. Poi Covelli va in appoggio al centro-destra d'accordo sulle priorità del programma. Nel taglio basso lo sfidante d'Alberto, sisma intollerabili, altri ritardi. Il candidato del centro-sinistra, una delega specifica al Comune per il recupero delle abitazioni inagibili. Completiamo la lettura delle pagine di Teramo sul centro. Tragedia Cermignano, schiacciato da una rotoballa di 5 quintali, muore un agricoltore di 65 anni nell'azienda di proprietà del figlio durante un'operazione di carico. Domani sarà effettuata l'autopsia. Poi il Lido delle Palme è una speculazione e testimonio è un proprietario terriero della lottizzazione di Giulianova. Andiamo sul messaggero, aprire le pagine di Teramo. Processo Castrum in apertura. A Di Filippo faceva gola anche il Maxi Storri, il marito dell'ex dirigente Mastropieto. Si sarebbe aggiudicato i lavori da 2 milioni. Ieri le conferme di Branciaroli in aula. sapeva che avevo in mano il progetto. E poi Covelli ora scopre le carte. Il mio appoggio a Giandonato Morra per quanto riguarda la campagna elettorale. Nel taglio basso, cani e gatti avvelenati e strage. Scatta la caccia al killer. Nella pagina successiva, niente più loculi per il caro estinto. Ranalli, solo una decina, quelli ai piani medio e basso. Liberi quelli posti in alto. ma i parenti dei defunti dicono no. Già presentato il progetto di ampliamento del cimitero di Giulianova non è più rinviabile con una media di 460 decessi all'anno. Andiamo adesso sulla città per completare le notizie dal Terramano. La relazione finale del commissario di Teramo, Pizzi. Ecco cosa lascia in eredità. Andiamola a vedere nel servizio di Tania Bonici Castelli. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio. Possiamo mandarlo in nome. Il commissario straordinario al comune di Teramo, Luigi Pizzi, è in procinto di lasciare il suo posto al futuro sindaco della città e, come prassi vuole, fa pubblicare sul sito istituzionale del comune la sua relazione di fine mandato. Un documento di 31 pagine che racconta la gestione commissariale durante questi ultimi sei mesi. A Pizzi erano stati conferiti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale dopo la sfiducia all'allora primo cittadino Maurizio Brucchi. Dalla lunga analisi di entrate e uscite si evince che il commissario prefettizio lascerebbe i conti del comune di Teramo meglio di quelli che aveva trovato. All'inizio del suo mandato, il 7 dicembre 2017, il fondo di cassa era pari a zero. L'anticipazione di cassa, cioè i debiti del comune, ammontavano a 11 milioni 708 mila euro. Oggi la cifra è più che dimezzata ed è di 5 milioni 342 mila euro. Luigi Pizzi non ha solo risanato in parte i conti in rosso dell'ente, ma ha anche indicato nuovi percorsi per affrontare e risolvere alcune questioni spinose come l'affidamento dei parcheggi, la Teramo Ambiente e gli impianti sportivi. Intanto la via maestra indicata dal commissario è stata quella dei bandi e delle gare e non più quella delle proroghe infinite e forse illegittime. In particolare sull'uso e la gestione degli impianti comunali, Pizzi ha operato una netta spending review a valere sul bilancio comunale, ridefinendo gli obblighi dei concessionari. Ha anche aderito alla normativa che prevedeva la riapertura dei termini per il pagamento agevolato dei tributi comunali, una sorta di rottamazione delle cartelle che dovrebbe fare entrare nelle casse del Comune di Teramo circa 200.000 euro. Anche l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti è diminuita, passando dal 21,41% del 2017 al 16,16% del 2018. Al termine della relazione di Pizzi, un dato salta gli occhi. Nell'ultimo anno gli abitanti del Comune di Teramo non sono affatto diminuiti, come spesso si afferma, ma aumentati anche se di poco, passando da 54.405 nel 2017 a 54.427 nel 2018. Una buona gestione dunque, stando a quello che scrive il commissario prefettizio che si concluderà con il ballottaggio del 24 giugno. Allora si aprirà un'altra storia per Teramo e sarà il nuovo sindaco a decidere strade e percorsi per amministrare, risanare e ricostruire la città. E vi ricordo sempre l'appuntamento di domenica sera per seguire il ballottaggio su questa rete a partire dalle 22.30 circa. Proseguiamo con la città, andiamo in provincia, sposto Codacons sulle bandiere blu abluzzesi. I rapporti economici tra FEE e chi riceve il riconoscimento potrebbero costituire conflitto di interessi. Andiamo a vedere perché l'accusa da un lato la procedura di attribuzione della bandiera blu è gratuita. Dall'altro sembrerebbero esservi costi a carico dei comuni per erogare dei corsi di formazione tramite FEE Italia alle scuole dei comuni. Andiamo avanti. Muore schiacciato da una rotoballa. Nicola D'Alesio 65 anni perde la vita in un incidente agricolo nelle campagne di Penna Sant'Andrea l'inchiesta e il magistrato ha disposto l'autopsia che sarà eseguita domani dalla dottoressa Quaglione. Proseguiamo preghiere e commozione per Esther Pasqualoni cerimonia all'ospedale di Sant'Omero ad un anno dall'uccisione della dottoressa. Il processo Castrum delusi dall'appalto sfumato alla Tauro in aula ieri ha testimoniato una ex dipendente dell'azienda del marito della dirigente comunale Mastro Pietro. Proseguiamo a Roseto l'assessore Frattari rientra in municipio Camera Ardente allestita in consiglio comunale a rientro della Salma il sindaco è una folla di concittadini. Torniamo sul quotidiano Il Centro andiamo a vedere adesso la pagina dell'Aquila tasse le imposte dunque da restituire nel postisma altra proroga e nuova delusione due mesi in più alle imprese fronte comune da Alfonso Pezzopane Biondi un risultato molto al di sotto delle attese e poi Genio Civile coro di proteste all'Aquila contro la delibera della giunta regionale ancora agente ustionato in carcere arriverà il ministro dell'interno Salvini nella pagina successiva la El Foundry morto l'operaio caduto da un lucernaio a Iello stava eseguendo un intervento di manutenzione straordinaria la procura ha aperto un'inchiesta i sindacati hanno fatto due ore di sciopere un sit-in di protesta per chiedere sicurezza nel taglio basso lasciano il cane in casa rischiano la denuncia è accaduto a Tagliacozzo andiamo sul messaggero anche qui per aprire le pagine dell'Aquila a Piazza Duomo all'Antica si scatena il dibattito social per i conservatori invece si oscurano i monumenti non dato il sito del comune all'architetto Santoro che negli anni 80 la rimodellò dice gli alberi c'erano nel passato andiamo ancora avanti si parla della Dompe sito ampliato e nuovo farmaco a 25 anni dall'insediamento del sito produttivo e poi ancora la Health Foundry morto l'operaio caduto nella azienda marsicana non ce l'ha fatto ce l'ha fatta Marco Sebastiano Aiello della SIC di Cesena andiamo adesso a vedere le pagine dello sport partiamo dalla serie B Pettinari firma per il Lecce Carabaghi rompe su Fiorillo queste le notizie di mercato che riguardano il Pescara il centravanti romano saluta e passa al club salentino a titolo definitivo il Delfino accetta la proposta degli azzeri ora la decisione spetta al portiere contratto di tre anni per il bomber dell'ultima stagione pronto un ricco biennale per il 28enne genovese e poi ancora il retroscena sul riscatto da 800 mila euro Macin alla Roma il 50% dell'eventuale rivendita del cartellino e poi ancora da Piccioni a Caidi ecco il Teramo che verrà se Recilli e se Biancorosso Federico ha scoperto pronto un trist di acquisti faremo una buona squadra rassicura il dirigente lavora per arlesire la rosa in passato sono state fatte follie ora serve un mix di giovani e di elementi esperti con questa formula Carrara siamo arrivati quinti andiamo a vedere anche la serie D il DS De Angelis torna a San Nicolò Lucarelli in pole per la panchina nella pagina successiva Pescara Malara è fatta ecco il nuovo allenatore siamo alla palla a nuoto di A2 la società ha scelto come il tecnico al posto di Mammarella l'eroe del tiprete della Sisley che ha già allenato i pescaresi dal 92 al 95 gli altri sport con il Futsal Acqua e Sapone su Ercolessi in A2 la Tombesi prende Lara e poi motociclismo domenica ad annunzio al Chief National Trophy 1000 di Imola per il softball ufficiale il ritiro dell'Atoms Chieti e per il basket di A2 Pieric la mia esperienza per Roseto gli Sharks ingaggiano l'ala ex Casale ancora il tiro con l'arco Sordini centra il terzo posto ad Ascoli Labruzzo chiude in quattordicesima posizione andiamo a vedere anche le pagine di sport sul messaggero ripartiamo dalla Serie B Pettinari a Lecce ormai è cosa fatta trattativa Lampo del Pescara l'attaccante va a ritrovare il suo ex trainer L'operazione dovrebbe fruttare un milione Fiorillo offerta monstre del Carabag e poi mercato dei dilettanti paterno avanti contorti shopping San Buceto e Flacco e ancora il basket di A2 Pieric e il secondo tassello un'ala esperta proviene da Roma quattro volte in azzurro dopo Sherrod il puzzle Sharks si sta completando nella pagina successiva l'Aquila Aius i vecchi soci come sponsor si lavora per una transizione in sinergia per quanto riguarda l'Aquila Calcio nodo iscrizione da definire chi pagherà e poi il Teramo Barbuti già infortunato prima di ripartire l'attaccante dovrà essere operato alla Caviglia subito la punta era reduce dal prestito al Gavorrano tempi di recupero oltre un mese e poi ancora l'Avezzano Boldrini ok ma senza firma completiamo con le pagine di sport della città parlando chiaramente del Teramo il Diavolo adesso si concentra sul mercato da vedere se l'Alessandria è ancora interessata da Maddio Barbuti rientra ma non è nei piani pochi sotto contratto l'obiettivo della dirigenza e di Campitelli in primis è quello di avere pochi giocatori che pesino sulle casse bianco-rosse si scandaglia il mercato di Serie D alla ricerca di profili interessanti nel taglio basso anche qui c'è il basket Roseto Sharks dopo Sherrod diva Simone Pieric l'ala piccola di 37 anni per 4 volte ha vestito anche la maglia della nazionale italiana è tutto per la nostra rassegna stampa mattino 6 torna domani mattina alle ore 8 la nostra informazione invece come sempre oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti